Bentornati sul mio canale ragazzi, questo video sarà presumo uno dei più brevi ma anche uno dei più significativi perché oggi ci sono delle novità che voglio esternare e che saranno veramente importanti Gianni, i link dei prodotti sempre aggiornati, a volte un video magari diventa vecchio, un anno, due anni e vado a cliccare lì e il prodotto non c'è più, ebbene qua ci sarà anche una spiegazione per quanto riguarda i link Secondo, io vorrei studiarmi bene il tuo impianto 12 volte, che ho visto che hai fatto tante serie dove lo trovo? Perché non tutti sono smanettoni su YouTube, quindi c'è bisogno di questo video per andare a spiegare che cosa sono le playlist, questo sarà il secondo aspetto che tratterò brevemente Ragazzi come al solito, buona visione e iscrivetevi al canale Partiamo in quarta, praticamente in questo video, dal titolo che avete visto, ci sarà una serie di cose tra cui in primis proprio un link totale, cioè una lista, un foglio copy in colon, word, chiamatelo come volete dove c'è elencato praticamente ogni singolo prodotto che io utilizzo è molto comodo perché voi potete guardare i video che volete poi andate all'interno di questo video, sotto il video c'è la descrizione andate nella lista e scegliete il prodotto che volete acquistare o perlomeno valutare ovviamente La cosa importante è che questo link sarà aggiornato costantemente cioè voi tornandoli troverete sempre prodotti aggiornati Cosa vuol dire aggiornati? Significa che un prodotto è finito bisogna cercarne uno analogo al giusto prezzo di un'azienda affidabile ebbene questo sarà un lavoro che farò proprio per voi sul canale in questo video specifico Un'altra cosa che voglio dirvi in questo video è che quando a volte mi mandate messaggi con scritto dove trovo l'impianto 12 volt? Ebbene ci sono tanti amici del canale che non hanno dimestichezza con YouTube e non sanno che esiste nel canale la cosiddetta playlist le playlist del mio canale sono tante ebbene se andate nelle playlist trovate 12 volt, 48 volt, tutto ciò che è la tecnica, tutto ciò che è i super condensatori sono tutti nella playlist ovvero di fianco, a secondo del... se usate un pc, un mac piuttosto che il telefonino trovate proprio l'elenco dei video nella playlist questo vi facilita perché se volete realizzare un impianto a 12 volt andate nella playlist 12 volt se volete realizzare un impianto economico semplice quella serie che ho fatto di... ad oggi è arrivata a 6 video ebbene la trovate lì solo... solo lei specifica con la quale andate a vedervi tutti quei 3, 4, 5, 6 video specifici adesso vi farò un esempio avvicinando la telecamera qui ragazzi ci troviamo all'interno della home page di YouTube dove c'è il mio canale, vedete? qua di seguito ci sono tutti i video ebbene questa è la home quando entrate vi trovate qua poi ci sono tutti i video ci sono veramente tanti oramai c'è la playlist qui a destra cliccando su playlist entriamo nelle diverse create da me vedete? sono tante, non tantissime però ad esempio se siete interessati al mega impianto qua c'è la playlist o la fate riprodurre tutta oppure andate in visualizza cliccando visualizza vedete i 3 video che sono oggi presenti nella playlist del mega impianto cioè video numero 1, numero 2 e numero 3 se tornate indietro e volete andare a vedere ad esempio la playlist della 48 volt vedete? 48 volt 6 kilowatt con 14 kilowatt ore di batteria cliccate su visualizza playlist ebbene questi sono tutti i 12 video che ho realizzato per questa serie in questo modo andate in maniera diciamo specifica a guardarvi uno per uno tutti i video di questa lista e potete anche riprodurli tutti consecutivamente questa è una cosa che ci tenevo a spiegare perché diversi amici del canale iscritti o comunque navigatori di youtube non riescono ancora a capire chiaramente qual è la funzione delle playlist bene è tutto per oggi ragazzi questo è un video che ve l'avevo detto breve spero vi sia piaciuto perché ci sono tante spiegazioni brevi ma interessanti su come dirigersi all'interno di questo canale per capire bene come mi sto comportando a vostro beneficio buon impianto a tutti ragazzi e ci vediamo al prossimo video buon impianto a tutti